La settimana del Serino Contro un comprensorio miscano alla ricerca di punti salvezza, senza Galeone, perno della difesa e Cipolletta, capitano nonché fino a sabato, capocannoniere della Rosa. Fino a sabato già, perché da due partite ormai è salito in cattedra colui che è stato ribattezzato il Gallo a Canfora. Grazie alla sua doppietta il Serino si è giudicato tre punti importantissimi che potrebbero valere tanto in ottica playoff, ammesso che vengano giocati. Non va trascurato neanche l'impegno di due calciatori poliedrici come Savino schierato al centro della difesa in sostituzione di Galeone e Narciso che all'occorrenza ha giocato anche da punta centrale. Tutto questo è merito di un uomo prima che un allenatore. Gargiulo ha plasmato questo Serino a sua immagine e somiglianza, ragazzi pronti a sacrificarsi in ogni dove e in ogni quando per la causa. Presupposti che lasciano presagire in ottica playoff che giocare gli spariggi contro la formazione bianca-azzurra non sarà facile per nessuno. Grazie a tutti.